Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere qui e soprattutto grazie a Oscar Camps, con cui ci siamo già incontrati una volta e ci siamo ritrovati qui a Perugia, credo che sia la prima volta di Oscar qui a Perugia ed è una giornata molto importante secondo me per parlare di diritti, per parlare del ruolo delle ONG, per parlare di migranti. È una giornata particolare oggi, innanzitutto il mio pensiero, sicuramente quello di Oscar e di tutti noi, va a quelle 64 persone, quei 64 naufraghi, ed è importante chiamarli così secondo me, i 64 naufraghi che sono a bordo della nave Sea Eye, che è una ONG tedesca. E dico naufraghi perché ci dobbiamo ricordare che queste persone non sappiamo se sono profughi di guerra, se sono rifugiati politici, se sono rifugiati dalla fame. Noi sappiamo che sono naufraghi che sono stati salvati dalla morte in mare e questo è il primo punto fondamentale. Esistono delle convenzioni internazionali che obbligano fortunatamente a salvare le persone in mare senza domandarsi da dove vengano e dove vanno e chi siano. Vanno innanzitutto salvate. Queste 64 persone su questa piccola nave si sono dirette verso Lampedusa ma sono state bloccate a 16 miglia della costa, quindi fuori dalle acque territoriali italiane, perché il governo italiano ha detto che i porti sono chiusi, che Lampedusa era un porto chiuso. Siccome su questa nave ci sono anche dei bambini e c'erano in particolare due famiglie che avevano bisogno di un intervento urgente, perché i bambini sono piccoli ed erano in sofferenza, una famiglia era composta da un papà, una mamma e un bimbo di 11 mesi e l'altra famiglia era composta da una mamma, un papà e un bimbo di 6 anni. L'unica proposta che è stata fatta alla nave CIA e dal governo italiano è di far scendere le mamme con i bambini lasciando i papà a bordo e quindi dividendo le famiglie dopo un viaggio lungo mesi in Africa, si è chiesto ai padri di rinunciare a stare con i propri figli. Trovo una proposta piuttosto vergognosa, molto vergognosa, che ci dà l'idea del punto a cui siamo arrivati, quella di dividere le famiglie, è veramente una vergogna. Io mi vergogno che il nostro governo sia stato capace di una proposta così scandalosa. Lo dico da padre perché sono padre anch'io e non capisco perché un uomo non possa scendere col proprio figlio e con la propria moglie se si riconosce che c'è un'emergenza sanitaria. Credo che ci sia sempre un di più di disumanità che si vuole dimostrare, bisogna dimostrare di essere inflessibili, bisogna dimostrare che due maschi neri non possono entrare, non devono entrare nel nostro paese perché ci minacciano. Questo è il punto. Fatto sta che questa nave ha fatto marcia indietro, ha messo la prua verso Malta ed è in navigazione verso Malta e dove pare che bontà loro i maltesi che, detto tra noi, non sono molto meglio dei nostri, perché poi non è che stasera non saremo qui a tessere le lodi, almeno per quanto riguarda degli altri governi europei, tutt'altro. Però pare che perfino il governo maltese, che ha sempre scrollato le spalle o quasi sempre avrebbe accettato di far scendere i due nuclei familiari interi. Insomma, questa è la situazione di oggi. Tutto questo sullo sfondo di una Libia che è in fiamme, di una Libia dove c'è la guerra, di una Libia dove il generale Haftar ha sferrato il suo attacco spostandosi dalla Cirenaica verso la Tripolitania, verso Tripoli, affacciandosi a 15-20 chilometri dalla capitale libica a dimostrare che in Libia non c'è un governo, non c'è uno Stato e non c'è un porto sicuro. Questa è la Libia dove si pretendeva di far tornare la nave Siai e dove si pretende di far tornare i naufraghi appena salvati. Questa è la premessa. La prima cosa che voglio domandare a Oscar, intanto voglio dirvi che Oscar Camps è un giovane imprenditore catalano, spagnolo, vive a Barcellona, le sue navi sono navi, ha due navi che in questo momento sono a Barcellona, una la si sta attrezzando per farla ripartire per il mare, la seconda è bloccata per ragioni che ci spiegherà a lui amministrative, ma insomma il governo spagnolo non permette alla nave principale di riprendere il mare, Proactiva Open Arms salva le persone, salva le vite in mare e ha un primato questa ONG spagnola, il primato di essere stata la prima organizzazione a rifiutarsi apertamente, orgogliosamente di restituire i naufraghi alla Guardia Costiera Libica. È successo nel marzo del 2018, a largo delle coste libiche, nonostante le minacce della Guardia Costiera Libica con le armi spianate e la minaccia di sparare, quelli di Open Arms si sono rifiutati di restituire questi naufraghi, di ridarli ai libici e hanno resistito alle minacce, sono tornati verso l'Italia, sono credo ancora adesso sotto indagine per favoreggiamento della immigrazione clandestina, ma insomma credo che questa per loro sia in qualche modo e lo penso anche io una medaglia al petto. Allora Oscar, intanto la prima domanda che vorrei farti è come definiresti, quale definiresti la finalità della tua, della vostra ONG? A che cosa serve Proactiva Open Arms? Che senso ha il vostro lavoro? Buonasera a tutti i mondi. En primer lugar, Open Arms non è una organizazione, era una resposta cittadana a una situazione molto concreta nel 2015, di abbandono di tutte queste persone nel mar, nel Egeo concretamente. Come risposta cittadana fuimos a Lesbos a echar una mano a colaborare con le entità che all'interessi che all'interessi lavorare, però non vimos a niente, non encontramos a niente, a niente, a niente organizazione, così che decidimos formalizzare nostra acción in una organizazione e entramos dentro del processo administrativo, che è creare una ONG non gubernamental. Senzillamente il nostro obiettivo è protegere la vita nel mar. Perché? Perché in questo planeto hai tre parti di acqua per una di terra, hai cientos di mille di organizazioni in terra, però che io sepa solo hai tre nel mar di forma permanente, che sono Greenpeace, Sea Shepherd e ora adesso è molto bene protegere le ballenze, limpiare il mar di plastica, però protegere e difendere i diritti umani nei diritti nel mar è per noi una priorità assoluta. da quanto tempo lo fate? tre anni, da settembre del 2015, da la morte di Aylan Kurdi. Quindi la morte di Aylan Kurdi è stata una delle ragioni per cui tu hai deciso di metterti in questa impresa? Sì, io veia la operazione Mare Nostrum, estuve seguendo lo che occorria nel Mediterraneo central, seguia Médicos Sin Fronteras con il suo primo barco, con il Dignity, stava attento a lo che occorria perché sono guardavida, sono socorrista di professione, gestiono una compagnia con más di 600 socorristi in España, è la mia vocazione, mi dicono che è un negocio, però non lo è, è più ben una vocazione che non una attività lucrativa, no? E vedo che occorria tutto questo e che aveva molt pocate possibilità di che si interviniera una volta che si avessero Mare Nostrum, vimos lo che occorriva in Ampedusa e decidimos prepararnos per fare qualcosa, no? E una opzione destacata fu la morte di Aylan Kurdi, esa fotografia, a mi personalmente me conmoviò, io tengo un hijo, un hijo pequeño, bueno, tengo 4, però tengo uno pequeño, Max, che ora era 7 anni, sono gli stessi che avessero a Alan Kurdi se estuviera vivo. Quando io vi esa foto, vi a mio hijo in esa playa e pensé, perché non c'è nessuno lì aiutando, no? E qui empezzò l'avventura, fino al dia di oggi. Quella fotografia colpì moltissimo anche me, ma colpì moltissimo milioni di europei, no? Aylan Kurdi era fuggito da Kobane, da una città siriana che era sotto assedio dell'Isis, è un posto che a me sta molto a cuore perché io ero stato a Kobane nel 2014, nel dicembre 2014 a raccontare la guerra lì dentro, avevo visto la misura della tragedia della guerra e avevo visto le condizioni in cui le persone cercavano in tutti i modi di fuggire, da cui cercavano di fuggire. E Alan Kurdi era appunto un bambino che era scappato con suo padre da Kobane e purtroppo non ce l'ha fatta, è affogato in mare e il suo corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Smirne in Turchia. Quella fotografia segnò un punto di svolta, non soltanto per Oscar Camps, che decide che bisogna fare qualcosa di più, agire per evitare che muoiano altri bambini come lui, ma ci fu un fortissimo impatto su tutti i governi europei. Fu dopo la diffusione di quella fotografia che Angela Merkel aprì le porte ai profughi di guerra siriani e arrivarono centinaia di migliaia di profughi attraverso la rotta balcanica in Germania. Quell'apertura delle frontiere credo che sia costata cara ad Angela Merkel che da allora cominciò a perdere consensi perché fu accusata di aver aperto indiscriminatamente agli immigrati in Germania. Però ecco... Corrado, dejami che ti amplie. Chissà non abriu le fronte per la morte di Alan Kurdi, chissà tenia un índice di natalità molto baixo, 8 nascimenti per cada 1.000 habitanti, era il paese più vecchio del mondo, dopo di Japone, e precisava urgentemente la entrada di più di un milione di persone per invertire esa piramide. Che casualità che arrivaron per Grecia, cerca di un milione di persone e le ponían treni a Austria per arrivare a Alemania. E quando realmente recibiu esos 900.000, che casualità che in marzo se firmara un accord con Turquia e se cerrara, il accordo era vergonza, e se cerrara ese flujo migratorio. Però mentre iso occorria, il pull factor erano le organizzazioni che stavano lavorando nel mar, non era un paese con una piramide invertida, non era il paese più vecchio del mondo, erano organizzazioni humanitari che stavano intentando protegere la vita di queste persone che non stavano andando in avione desde Turquia hasta Alemania, sino che stavano jugandosi la vita, pagando a traficanti, che separavano le famiglie, come ho intentato fare Salvini in questo barco del C.A. con... Certo. ...la separavano nella orilla. Ma adesso... Adesso ci arriviamo al tema del pull factor, che è un tema molto discusso e molto discutibile. Tu hai ragione, Angela Merkel fece anche un calcolo economico e volle prendersi i profughi siriani, perché i profughi siriani, tra l'altro, erano i più formati, erano spesso persone diplomate, laureate, che erano persone che avrebbero portato energia vitale dentro le aziende tedesche. Ci fu sicuramente anche un calcolo, ma io non è a lì che volevo arrivare. Poi ci arriveremo al tema, a questo tema a cui accennavi te. Però non c'è dubbio che allora la foto di Aylan Kurdi ebbe un forte impatto emotivo sull'opinione pubblica europea. Cioè quel primo bambino morto, quel primo martire diciamo dell'immigrazione, secondo me smosse le coscienze. La cosa che... la mia domanda era questa. Non credi che da allora a oggi sia cambiata la sensibilità delle persone. Cioè oggi la foto di un bambino morto, probabilmente di un bambino morto annegato, e ne annegano tutti i giorni, non avrebbe lo stesso impatto sui governi e sull'opinione pubblica che ebbe allora. Come se in questi anni la propaganda, la rabbia, avesse scavato, diciamo, avesse in qualche maniera un po' reso più insensibili le persone di fronte a questo tema. Certo, certo. Actualmente hanno morto mille di kurdi. Nosotros hemos visto morire decenas di Aylan Kurdi. Non è lo stesso vedere un morto che verlo morire. Non è lo stesso vedere la foto di Aylan Kurdi che intentar rescatare Aylan Kurdi e non poter. e, quando li hai a bordo, darte cuenta di che non puoi lasciarli in nulla parte, perché non ti abri i porti e ti persiguen. Evidentemente che si ha fatto un gran lavoro mediatico per construir tutto un relato tendenzioso, non solo contro le ONG, ma contro il povere. Si ha aberto una guerra abierta contro il débil e contro il povere. Lamentablemente, abbiamo la desgraccia di avere politici tan mediocri che sono incapaci di risolvere i problemi economiche che acuciano tanto a mio paese come a questo, che pare che sta a punto di entrare in recessione. Però risulta che lo più importante, lo peor di tutto, lo peor che ci sta succedendo è che entri alcune persone che fanno, alcuni della persecuzione, altri della guerra, altri della miseria, che entri giocando la vita in una potera. Ese è il gran problema, per lo visto. Ese è il gran problema a abordare, è il gran problema che i medios di comunicazione utilizzano per abonare un discurso molto temenzioso e sempre è della extrema direzione. Io responsabilizzano, in parte, non solo ai politici, ma a alcuni medios di comunicazione, per poca empatia, per poca empatia e per titulares grandilocuentes e escandalosos in torno alla migrazione. E questo genera una opinione che corre molto deprisa. E ora siamo anestesiati ante la morte e la desaparizione di persone nel Mediterraneo che succede ogni settimana. Sono molto d'accordo sulla responsabilità che l'informazione ha sulle informazioni che abbiamo dato, che sono state date sul tema dell'immigrazione. E proprio a questo proposito, la sto cercando, spero... Eccola qua. Forse è il caso di fare un po' di chiarezza, di dare un po' di elementi di verità. C'è un tweet di Matteo Salvini a proposito della CIAI, della nave di cui vi parlavo all'inizio, che dice la nave della ONG tedesca ha raccolto il suo carico di esseri umani a 25 miglia dalla costa libica e ne ha percorse 172, sette volte tanto, per avvicinarsi all'Italia, mettendo a rischio la vita di decine di persone, evidentemente per un motivo politico. Hashtag porti chiusi. Questo ha scritto il nostro ministro degli interni Salvini, nonché vicepremier. Ora, in realtà, questo tweet contiene delle informazioni false, perché dà per scontata una cosa, che la Libia e l'Europa siano due entità paragonabili, omogene, che quindi una nave che salva i naufraghi, debba semplicemente scegliere la costa più vicina per poterli portare in salvo. E questa è una enorme bugia. Allora, ci siamo sentiti dire in tutti questi mesi che la Libia è un porto sicuro. Il ministro dell'Interni ha detto molte volte che la Libia è un porto sicuro e che si fida della Guardia Costiera Libica. In realtà, la Libia ha una cosiddetta SAR, Search and Rescue Area, cioè una zona dove è abilitata a fare le operazioni di salvataggio in mare. Chi gliel'ha affidata questa area di salvataggio? Gliel'ha affidata un'organizzazione internazionale che si chiama IMO, Organizzazione Internazionale Marittima. Su che base ha affidato alla Libia questa zona in cui può salvare le vite? Sulla base di una dichiarazione che lo stesso governo libico, lo stesso governo libico, diciamo, per quello che vale oggi il governo libico, ha fatto una autocertificazione di fatto con cui il governo libico dice di essere in grado di salvare queste vite e di avere un sistema di guardie costiere, motovedette, strutture, porti, comunicazioni adatte a poter svolgere il ruolo di salvare, di affrontare questa enorme emergenza delle persone che si imbarcano per fuggire dalla Libia. Tutto questo è autocertificato, non è certificato da nessuna organizzazione indipendente esterna. Non soltanto, ma accanto alla zona di salvataggio deve esserci un porto sicuro, il cosiddetto place of safety, il porto sicuro. Bene, il porto sicuro di cui parla il nostro Ministro dell'Interni, cioè il porto di Tripoli oppure il porto di Misurata, non esiste. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale dell'Immigrazione, l'OIM, hanno più volte detto che la Libia non è un porto sicuro. Quindi questa parvenza, diciamo, di legalità, di regolarità, dei salvataggi da parte della Libia, è appunto soltanto una facciata. Ecco perché oggi, per una nave che riceve una richiesta di soccorso dentro la SAR libica da parte di un gommone, di un barcone che affonda, lasciare alla Guardia Costiera libica, come vorrebbe il governo italiano, il compito di salvare quelle vite significa condannarli, 90 volte su 100, a morte sicura. Ed è questo il motivo per cui il mare è pieno di morti. Giovedì prossimo vi mostreremo, tra l'altro anche noi abbiamo lavorato a un'inchiesta sulla Guardia Costiera libica, a Piazza Pulita la vedrete settimana prossima, in cui questa situazione apparirà in una maniera schiacciante. ecco perché dico che noi non possiamo considerare Oscar in nessun modo la Libia paragonabile all'Europa, non è omogenea. Ed è per questo che oggi un governo che dice ci devono pensare i libici perché la barca sta fondando nel loro SAR equivale quasi a una condanna a morte. non so tu che cosa ne pensi, ma soprattutto se vuoi aggiungere qualcosa su queste zone di sicurezza appunto, perché io credo che una cosa che l'informazione non ha fatto abbastanza è spiegare questo punto, cioè spiegare che è tutta un'invenzione questa delle guardie costiere e delle zone di sicurezza e di salvataggio libiche. cosa ne pensi? bene, in quanto oi parlare della Unione Europea o di alcuni dirigenti della Unione Europea referendosi a Libia come che stiamo negociando con il governo di Tripoli, che stiamo formando la sua guardia costera, che stiamo parlando di un paese con un Estado, di un paese che tenga un estamento juridico, che protege e defenda a sus proprii cittadini, un paese organizzato, con la sua propria marina, con la sua propria ejército, con la sua propria policia e niente di tutto questo, è certo, non? Volvemo al uso dei medios di comunicazione di forma tendenziosa per generare a tutti questa anestesia di oire tantissime la stessa cancionciata che stiamo negociando con Libia, che stiamo formando la sua guardia costera, che Libia è un paese sicuro. e questa discusione la tuve con il ministro di Exteriore del mio paese, che anche, e la vicepresidenta del governo, anche dicono che teneremmo che llevarci le persone riscattate a Tripoli, non? E io le pregunte, perché nella pagina web del Ministerio di Exteriore, quando parla di Libia, dice che sono evacuati tutti gli spagnoli hace anni di Libia, che non si permette viaggiare a Libia, che non si permette viaggiare a Libia, che hai peligro di morte, incluso nella propria capital, in Tripoli, peligro di essere secostrata e asesinata, incluso, di dia, e che il governo non si fa responsabile del viaggio a Libia. In cambio, te dice, e è capace di dirlo durante un medio di comunicazione, senza sonroarsi, andare a Libia a devolver a queste persone. Libia non è un paese sicuro, Libia non è un estado, Libia è un estado fallito, ora mesmo, credo che hai tre Kalashnikov per persona, in Libia, se non sono capace di tenere il controllo della propria capital, né delle etnias, né delle 100, né delle 100 etnias che controllano il sud del paese, né dei tre gruppi armati che si autoproclama un governo legittimo di Libia, Europa si, Europa, Naciones Unidas, reconoce a uno, a uno di questi gruppi armati, a que li apoya economicamente, a que li dà embarcazioni, per fare devoluzioni in caliente e deportazioni. Perché? Perché nel 2016, quando arrivamos al Mediterraneo Central, rescatábamos mille di persone, mille. arrivamos a tener 14.000 persone, un verano, nel nostro barco. Era incredibile. Cómo se parava iso? Intentando, che in terra non aveva controllo absoluto delle mafie che li embarcano e li lanciano al mar, la unica opzione delle tre operazioni militari che poteva avere nel Mediterraneo, in quel momento, era formare a esos gruppi armati, darles barcos, e che salieran a aguas internacionali a perseguire le persone che fanno, e, per la forza e contra la sua volontà, devolverlos al mismo inferno. Claro, tu te preguntas, se non è un paese, se non è un Estado, se non tiñe un gobierno che controlla e che dà segurezza, se non hai un estamento jurídico che defenda a seus propios cittadans, se non tiñe un'armada, se non tiñe un control del aeroporto né dei porti, come possiamo fare per dare un toque di realità e di legalità a questa acción che non è più che devolver a un paese in guerra a la gente che fulgono d'alli, perché non è che fulgono della miseria del suo paese, sino che ora stanno fulgono di Libia, della persecuzione che si realizzano in Libia, delle detenioni aleatorie, della extorsione, della esclavitud, della violenza, della violazione, e non lo dico io, lo dice Naciones Unite, lo dice Acnur, incluso la misma Unione Europea, lo dice, incluso il director di Frontex, il signor Fabrice Leggeri, ha riconosciuto delante mio nel Parlamento Europeo che Libia non è un porto seguro, però per investire e darle ese halo di veracità, per empoderare a una milicia, diciamo che è un governo, diciamo che è una guardia costera, e le riconosciamo una zona SAR, una zona di Sets and Rescue di circa di 350.000 km2, España, il mio paese, tiene una zona di Sets and Rescue, incluso, nella parte del Atlantico, di medio millon di chilometri, di 500.000 km2, che ha messo di 80 basati, le riconosciuto di contacto di helicóptero di helicóptero di helicóptero di control, le riconosciuto di coordinazione, le riconosciuto di bloqueare, ma di 1.500 marini lavorano e vorrei sapere di che dispone Al-Harrat per controllare i 350.000 km di zona SAR che si asigna e che Europa le reconoce per garantire la sicurezza delle persone che si trovano in esa zona perché bisogna ricordare a tutti che a volte non si esquece che a partir delle 12 mille un paese perde le sue agos territoriali e le seguenti 12 mille tiene certa jurisdiczione per poter perseguire delitos possiamo dicere che hai 24 mille desde la costa di un paese in cui ese paese tiene certa jurisdiczione però a partir d'alli sono agos internacionales e se sono internacionales sono di tutti o di niente quindi quando una barca sta in aguas internacionales una barca con persone hacinadas una barca che carece di tutto tipo di medidas di sicurezza che sta sobrecargata che le sue dimensioni non poter evitare che vuole quando le sue le sue superi in metro 70 perché diciamo che hai inmigrantes e non naufragos perché distinguimos le vie quando la guardia costera rescata a persone nel mar las separa se sono pescadores se sono turisti se sono naveganti privati o sono deportisti o sono blancos o sono negri o sono catòlici perché in aguas internazionales che sono di tutti sono di tutti meno dei negri perché sono i unici illegali in aguas internazionales quindi vedete che appena si scava un po' vengono fuori le bugie le falsità ci raccontano delle frottole la Libia ha qualche carretta arrugginita con la quale cerca di pattugliare un tratto di costa che tirando una riga diciamo tra Bengasi e Tripoli credo che si arrivi a circa duemila chilometri con due o tre motovedette vecchie e arrugginite con un corpo di guardia costiera non pagato da molti mesi dentro la guardia costiera c'è di tutto ci sono persone per bene ex taglia goal gente uscita di galera gente che appartiene a varie tribù insomma ex milizie di ogni genere e tipo questo dovrebbe garantire il salvataggio delle persone che partano quotidianamente dalla costa della Libia e poi è incredibile perché basta collegarsi oggi anche con i telefonini per vedere quello che accade a me è successa una cosa io ho chiesto un visto per Libia ad agosto del 2018 non l'ho ancora ricevuto sono passati molti mesi questo visto a noi non lo hanno dato uguale anche a te io tambien per l'idone risa niente non ci chissà perché è strana questa cosa perché pare che ci sono intoppi burocratici allora a un certo punto mi sono un po' incazzato per il fatto che non riuscivamo a mandare nessuno e ho detto se ma ometto non può andare alla montagna facciamo al contrario abbiamo grazie alla mia fantastica redazione abbiamo aperto una serie di canali e abbiamo ricevuto in tempo reale molte testimonianze dall'interno dei centri di detenzione libici in particolare anche dalla regione più meno raccontata e più remota che quella di Saba che è nel cuore del deserto libico e abbiamo visto ci siamo collegati direttamente con i carcerieri e con i carcerati con i torturatori e con i torturati che ci hanno raccontato praticamente in diretta attraverso Skype quello che stava accadendo il quadro è del tutto chiaro alcune persone ci hanno si sono collegate da carceri cosiddetti ufficiali raccontando che ogni anno ci sono centinaia di persone che muoiono per malattie per le quali ci si salverebbe normalmente se ci fossero le medicine se ci fossero i medici il quadro di quello che accade lì è chiarissimo così come è chiarissimo che in Libia esiste la schiavitù nel senso che per i libici i neri sono schiavi loro chiamano con la stessa parola in arabo i neri gli schiavi c'è un'equiparazione li chiamano schiavi e sono carne da lavoro attraverso il loro lavoro da schiavi si pagano la possibilità di fare un tragitto di avvicinarsi alla costa per poi pagarsi il viaggio e la traversata capite che per queste persone dopo anni di torture schiavitù sia meglio rischiare di morire in mare piuttosto che rimanere in quella condizione ed è la ragione per cui a un certo punto quei disgraziati che sono stati salvati da un mercantile recentemente hanno visto mercantile e metteva la prova verso la Libia hanno dirottato il mercantile da un'altra parte perché non volevano tornare in Libia qualcuno chiamerà pure pirateria o terrorismo questo atto ma insomma è del tutto comprensibile dai racconti che riceviamo che chi scappa dalla Libia sia pronta a qualunque cosa pur di non tornarci quindi vedete che basta parlare con le persone che hanno a che fare con i fatti lì in Libia e nel mare per conoscerli più a fondo tuttavia credo che l'argomento principe sul tema delle ONG e dei trafficanti di uomini sia il cosiddetto pull factor cioè la grande accusa che viene fatto Oscar a voi delle ONG è che siate con le vostre navi sempre più vicine alla costa libica talvolta accusano i governi anche dentro ben dentro le acque territoriali libiche abbiate di fatto costruito un corridoio umanitario per cui di fatto avete trafficato in persone avete fatto un favore ai trafficanti di uomini e avete attirato questi migranti a fare la traversata per venire in Europa questo si chiama pull factor dice il nostro ministro dell'interno ma lo dicono più o meno tutti i governi europei che da quando le ONG non ci sono praticamente più in mare ci sono meno molti meno barconi molti meno sbarti e anche molte meno persone che muoiono in mare come rispondi a questa critica a questa osservazione bene abbiamo abbastanza pratica contestando a questo tipo di acusazioni perché già desde il 2015 non si las van dicono che nelle barca che salivano da Turquia venivano terroristas del Estado Islámico in quel momento generava certa tensione nella población ora con il tempo e la distanza vediamo che non che i terroristas in España non entran per mare sino che venen per avione e tenen media Marbella comprata perché sono i saudis che stanno allì recebili incluso per nostro rei così che il pull factor per noi è il o il pull factor è che España paghe a Marroco per che Marroco non deixe salire il pull factor è che Alemania o la Unione Europea a través di un accord di Grecia con Turquia paguiamo a Erdogan 6.000 millons di euro per che non deixe salir e il pull factor è pagare a gruppi armati libri per che retengano per la forza e contra sua volontà la gente che vuole fuori d'alli è è il vero il pull factor perché quando si 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 vogliono più dinero e deixano salire per ottenere più dinero perché in Grecia stanno salendo ora stesso cientos di mille di persone sono retenute beh, c'è più di 2 milioni di siri ancora in Turquia ma stanno arrivando entre 600 e 1.000 persone quasi a diario a le coste griegas di nuovo magari che Europa non sta pagando esos 6.000 milioni a Erdogan perché questo anno Mohamed VI ha lasciato salire di Marruecos a 60.000 persone che hanno arrivato in Patera o hanno stato rescatato nel sud di España evidente per renegociare ese convenio che aveva con il governo espanol il pull factor non è stare a 24 o 50 mille della costa di Libia ha bisogno che explicarle al signor Salvini che tra il canal di Suez e il estrello di Gibraltar sta il passo uno dei passi maritimos più importanti del mondo per lì passano approssimativamente 97.000 barcos mercanti al anno è facile fare un calcolo e ti saranno 250 barcos al giorno 250 barcos che cruzan da un lato a l'altro per la zona per la zona di mar è un'autentica autopista di barcos per iso lanciano alli le barcos non per che che arriben a Europa che è quasi impossibile che arriben a Europa con questo tipo di embarcazioni sino per che alcuni dei mercanti lo faci lo trovi e lo riscate passandose nella lei più antiga del mondo nella lei del mar in ese sentido che hai che protegere la vita di tutto il mondo che ti trovi nel mar ora non hai embarcazioni humanitari noi tenemos periodisti a bordo del nostro barco in todas e cada un'una delle misioni abbiamo posto il foco nella situazione se ha parlato abbiamo intentato mediatizzare lo che stava accorrendo ponerle saltavoz a queste persone per che che ci expliquen come ha sido il suo tormento come ha sido il suo viaggio lo horroroso che ha sido la sua stanza in Libia e quantas persone hanno visto morire a suo lado se non siamo non è che non ha morto non ha llegato le llegato se silenziano nel sud di España non si sta parlando del numero di persone che arriano perché hai un'elezione dentro di un mes e come qui passò nel 2018 che in enero llegaron miles di persone desembarcate però este governo tamén se las ingegniò para pagar a los libios per intentar baixar ese numero di llegadas che baixò considerablemente nel mes di febrero e durante le elezioni en marzo del 2018 apenas avea llegadas in Italia a costa della salute delle persone retenidas per la forza in Libia, che noi riscattavamo più avanti e potremmo denunciare che sarebbe deteriorato la salute di queste persone, evidentemente Corrado, come tu dici, per il sacinamento, per la falta di recursos, per la ausenza di nessun tipo di asistencia medica, per la quantità di patologie infecciose, abbiamo che denunciare lo che stava succedendo o come lo troviamo noi nel medio del mar il pull factor non è un barco in 2.000 km di costa perché la costa Libia sono 2.000 km di costa, un barco che sta a 100 km mar adentro in una costa di 2.000 km non è un pull factor, chi va a llegar hasta alli? Hemos opiato o hemos olvidato, quizà casualmente o quizà intencionadamente os medios di comunicazione non parlano lo sufficiente del push factor che è il factor che empuja a questa gente a decidir morire nel mar antes che seguire un dia un giorno più nel tormento nella violazione nella extorsione o nella esclavitud perché ti contare per encima come è il viaggio di una di queste persone quando sale quando sale del suo paese pongamos che un eritreo sale del suo paese con le poche mille di euro che ha potuto reunire di tutta la sua famiglia a través di mafias intenta cruzar fronteras però evidentemente nel Sahel a cento di persone a morire de sed nel desierto abbiamo tenei testimonios a bordo di aver visto questo tipo di pratiche però hanno arrivato a Libia con l'illusione di poter intentar cruzar il Mediterraneo però all'alli sono apresati per qualsella milica che li trova nella calle li separa entre hombres e mujeres e li extorsiona perché todavía se les può exprimir un pocino más a questi negros entón se les violenta se les agrede se les fa llamar a sua casa e mentre le están llamando a sua familia perché evidentemente hai smartphone en todos os paesi de África todo o mundo ve las redes sociales en África evidentemente que a sua madre recibe o seus padres reciben una llamada desta persona que está sendo golpeada e torturada e que está gritando e suplicando por sua vida a cambio de 300 o 400 dólares que esa familia intentará reunir para pagar a mí lo que me sorprende es que la operación Sofía e altre operaciones busquen traficantes en el mar cando realmente nos han contado como eran esas transferencias como la familia enviaba dinero a través de Western Union a Dubai de Dubai venía a Libia a Tripoli e eran recibidos claro e este tipo de extorsiones son a cientos de miles de personas una vez que se han extorsionado los liberan o los venden a otro Libio o grupo armado que todavía los puede esclavizar un tiempo más hacerlos trabajar un tiempo más o incluso intentar extorsionarlos más porque evidentemente al que no pueden extorsionar más y al que la familia no ha pagado lo eliminan eso es lo que ocurre en Libia esta es la versión masculina la versión femenina es bastante más atroz me la puedo ahorrar porque a mí en mi barrio me preguntó una vez una señora ¿por qué cuando rescatáis a estas mujeres que llevan niños tan pequeños por qué por qué tienen niños si son tan pobres y yo le decía bueno es que esta mujer quizá a los 9 o 12 años ha sido entregada a cualquier hombre que se ha casado con ella y no ha tenido absolutamente ningún derecho y los niños que nosotros encontramos cuando rescatamos son producto de violaciones y la mayoría vienen embarazadas por violaciones múltiples es terrible e horroroso encontrarse con todo esto en medio del mar y convivir con ello durante días porque es lo que hemos hecho en nuestra organización en cada una de nuestras misiones y lo más horrible es encontrarte esta falta de empatía al llegar a territorio europeo y que alguien te diga que no puedes entrar a desembarcar a estas personas que algunas precisan asistencia médica porque las hemos rescatado físicamente del mar pero señores no las hemos rescatado psicológicamente porque están muy mal por todo lo que han sufrido y nadie es consciente de que estas personas han sufrido una barbaridad y aquí oímos a muchas personas hablar de sus propias patologías sus propias depresiones y sus propias ansiedades por cualquier otro motivo que se ha descrito perfectamente Oscar fa capire como que la persona cuando arriva all'ultimo passaggio que lo in mare es un ser humano talmente strizzado que ha provado talmente talmente esperienze talmente trache que no ha più niente a dar no es pronto a rifar da capo el giro porque no resisterebbe non sopravviverebbe a un nuevo giro de la muerte en Libia y es esta la ragione por que es pronto a morir piuttosto que tornare indietro una cosa que es muy importante da far capire es que es vero que son diminuidos los abiertos a que prezo lo estamos viendo no 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 sabemos si son davvero diminuidos los mortos no soltanto porque en realidad los aumentos aumentos el rapporto anche quelli ufficiali aumentos el rapporto a cuantos atraviesan hoy muoiono más personas en rapporto a que que hacen la traversada porque hay menos navidad que intervengan a salvarlos pero no sabemos cuántos son mortos en fondo al mar porque es una coltria de silencio absoluta su esto no sabemos cuántos corpos en fondo al mar pero vorrei arrivare a un punto fondamentale que es legado a proactiva open arms que es el volto de una donna que se llama Josefa y que es una donna si no me sbaglio vado a memoria del camero mi pare una donna que dopo el naufragio rimane attaccada a un legno en mare per circa tre giorni tre notti prima di essere salvata appunto dall'imbarcazione open arms quel volto fa il giro del mondo la storia di quella donna fa il giro del mondo a quel salvataggio è legato anche di uno dei dei fatti più vergognosi degli ultimi tempi che è la fake news secondo la quale in realtà Josefa non era davvero una naufraga e una profuga perché aveva le unghie con le unghie dipinte appunto e quindi era chiaramente una figurante non era una donna salvata da open arms ma lasciamo perdere queste sono diciamo le miserie le miserie che purtroppo viaggiano in rete ma al di là di questo quello che ti chiedo Oscar è che cosa ti ha insegnato Josefa e che cosa ti ha insegnato la sua storia e senza entrare nei dettagli perché capisco che non si può se ci puoi dire oggi se Josefa è una donna recuperata compatibilmente con quello che ha subito una donna felice finalmente libera il caso di Josefa è extremamente grave non fu un naufragio fu abbandonata nel mar di forma consciente e deliberata ella e gli altri due corpi che encontramos come mínimo noi seguimos ese rescate por radio durante toda la noche oímos come esa barca estaba cerca la estaban buscando e non la encontraban hubo un mercante que los encontró e se mantuvo durante unhas horas protegendo con sua presencia a esa embarcación esperando la llegada de la famosa guardia costera libia que non chegava nunca que tardou muchísimas horas en llegar casi tantas come nosotros pero ese mercante decidiu irse que era máis importante su mercancía e chegar a Porto e as sanciones que podían recaerle por perder tanto tempo allí porque tanto la guardia costera italiana como la guardia costera libia le engañaban le decían que era inminente la llegada era inminente la llegada e pasaban as horas e aí non chegava a nadie nosotros oíamos esa conversación mentre nos dirigíamos estábamos a 80 millas de distancia un barco navega a 10 nudos que podía ser unos 18 kilómetros por hora así que estábamos a unas cuantas horas cando chegamos allí el mercante evidentemente los abandonó a sú suerte e os libios cando llegaron por lo que vimos por la situación e por por el escenario vimos que la barca estaba completamente desinflada o sea que le habían pinchado toda me imagino que las personas a bordo vieron un mercante e pensaron que serían rescatados por el mercante al dejarlos el mercante abandonados e aparecer los libios e ver que volvían otra vez a la tortura a la violación e a la esclavitud decidieron non subirse a esa patrullera me imagino que la guardia costera libia moi ben preparados e formados por la armada española e por la guardia civil española decidieron pincharles la barca que se les hundiera la barca e entón de esa manera querrán subir a la patrullera evidentemente que non todos subieron porque nosotros chegamos unhas horas máis tarde e nos encontramos o corpo de un niño de 10 años me imagino que a súa madre e o corpo de Josefa que estaba en situación agónica desesperada apenas consciente como habéis visto nas imágenes bueno nos dijo moito esa situación nos hablou del contexto real de lo pouco que importan as vidas a nadie en ese momento non le importaban absolutamente a nadie lo que non nos imaginábamos era que despues de tener que viajar durante máis de unha semana con esos cuerpos a bordo de rescatar el cadáver de un niño de 8 ou 10 años que podes ver por redes sociales como te dicen que nos hemos inventado todo isto que isto é un fake news e que nos dedicamos a montar este tipo de performance en medio del mar bueno como já estamos un pouco acostumbrados a la persecución deste tipo e a la crítica deste tipo como já somos os responsables de ser o pull factor e non existe push factor nada les empuja a irse bueno lo pudimos aguantar algunos Marc Gasol quedou completamente chocado e logo quedou avergonzado de lo que tuvo que soportar nas redes sociales de la presión que tuvo que soportar nas redes sociales e dos ataques que tuvo que soportar nas redes sociales menos mal que llevábamos a un jugador de la NBA conocido en todo o mundo porque se isto nos pasa a nosotros solos quizás sí que se hubiera creído todo o mundo que nos dedicamos a falsificar a situación pobre Josefa la rescatamos el día de la Virgen del Carmen que é o día é a patrona dos pescadores ella cantaba unha oración é moi católica é unha moza que que a pesar de lo que nos podemos imaginar huía de Camerún non precisamente da pobreza porque tiene familia en Europa huía dos malos tratos que le proporcionaba a sú marido porque non se quedaba embarazada hai moza xente que huye de África non por motivos económicos sino por la ablación de clítoris por la violencia doméstica por cosas que aquí tamén huiríamos de nuestro domicilio e de nuestra propia vida pero ellos non tenen outra manera de hacerlo que entregarse a mafias para poder llegar a casa de un familiar en Europa porque lamentablemente non se pode solicitar refugio se non estás aquí é outra das peculiaridades desta Europa vieja así é que bueno la rescatamos la pudimos cuidar e la entregamos á Cruz Roja antes denunciamos lo ocurrido en el juzgado de Mallorca e veremos lo que ocurre ella está moi ben estas navidades pudimos cenar juntos todos foi moi emotivo non pretendemos enfriar os temas e as situaciones sino buscamos máis empatía e la buscamos en general en todo o mundo creo que necesitamos ser todos un pouco máis empáticos e tener un pouco máis de sensibilidade e de emoción porque cando tratamos estes temas hai que tratarlos con emoción e con cierta sensibilidade e o tema de Josefa é un tema particular non é mercancía é unha senhora con unha familia con unha vida de la que tenemos que proteger non? Ha sido moi moi su caso moi discutido e ela ha sido moi acosada e hemos podido compartir todos por redes sociales cantidad innumerable de estupidez pensate magari l'avete già letta voi questa cosa no? ma a me ha molto colpito perché questa fake news su Josefa prendeva spunto dal fatto che c'è una foto di Josefa salvata messa sulla nave con lo smalto sulle unghie e quindi qualche disgraziato aveva fatto il tweet dicendo vedete che è un falso come fa un naufrago ad avere lo smalto sulle unghie e in realtà poi si è saputo che Josefa appunto quasi agonizzante insomma era stata a bordo curata e che nella cura da parte del personale della proattiva open house c'era anche quella di dargli lo smalto sulle unghie per farla per farla tornare nuova in qualche modo per farla sentire a proprio agio per farle per darle quel piccolo quella quell'idea di essere tornata ad una vita quotidiana normale in questo secondo me in questo gesto invece c'è lo straordinario lavoro di questi ragazzi delle ONG che appunto si preoccupano tantissimo anche di dare quell'appoggio psicologico a chi risuscita dall'inferno e quindi paradossalmente voglio dire che paradossalmente chi ha ordito inventato questa orrenda fake news ha fatto un favore a tutti noi perché ci ha permesso di conoscere questo dettaglio che invece magari non avremmo conosciuto e quindi ringraziamo l'autore di questa fake news perché ci ha fatto conoscere questo piccolo ma straordinario dettaglio rivelatore io rimarrei qui 15 ore perché sapete che è il tema della mia vita questo quindi però non possiamo magari qualche domanda del pubblico mi piaceva sentirla avrei due domande ti chiedo magari di essere un pochino sintetico Oscar la prima è questa quanto queste polemiche se le ONG stanno danneggiando economicamente le ONG allora oggi tenere una barca ferma a dei costi tenerla in mezzo al mare senza farla sbarcare a dei costi enormi di carburante di equipaggio attaccarla a dei costi perché le le sottoscrizioni rischiano di essere di meno perché appunto c'è una campagna di discredito nei confronti delle ONG ecco da questo punto di vista ci vuoi dire tu qual è la situazione nel senso in questo momento qual è il sentimento che tu senti sulle ONG sulla tua ma anche sulle altre c'è ancora c'è un pericolo che queste ONG economicamente scoppino non ce la facciano oppure invece in qualche maniera i tempi che stiamo vivendo stanno ricostruendo una comunità attorno a voi bene abbiamo sofferto persecuzione tutte le organizzazioni desde il 2016 e 2015 e già nel 2016 abbiamo che soportare alcune parole nei medios di comunicazione del fiscal di Catania in cui già se nos advertìa che se nos stava investigando se nos acusava di collaborare con traficanti e queste notizie evidentemente perjudicano o generano una corrente negativa hacia il buonismo delle organizzazioni humanitari eso lo notiamo nel suo dia non non era sufficiente però la persecuzione seguì se militarizò a los libios che nel 2016 tomaban té nel nostro barco cando nos nos encontrábamos nel medio del mar passaron a amenazarnos a dispararnos al aire a secuestrarnos durante horas se militarizò la persecuzione hasta il punto che organizzazioni de extrema derecha fletaban un barco e nos perseguían por alta mar en aguas internacionales para difundir noticias falsas sobre nos de que entrábamos en territorio o en aguas libias non foi suficiente para acabar de arruinar a todas as ONGs aunque algunas desistieron del 2017 al 2018 cayeron la maior parte de organizzaciones que estaban en el mar quedamos muy pocas e adentrada se non recuerdo mal foi en el 2018 cando se nos judicializa directamente se nos acusa formalmente se nos bloquea el barco en Sicilia e eu quero recordar que en ninguna cárcel italiana ou en ninguna cárcel de Sicilia hai un membro de ninguna ONG detenido pero sí que hai membros de la guardia costera libia detenidos por tráfico de persoas pero se nos investiga a nosotros se investiga a las ONGs se nos sigue investigando e luego como non consiguen retirarnos de allí empieza a persecución política con as banderas e vemos como Aquarius desaparece porque retiran a bandera por presiónes políticas agradecerle a Italia que hablara con Gibraltar para que retirara a bandera e luego con Panamá para que retirara a segunda bandera se con todas estas presiónes non consiguen desestabilizarte económicamente entón vienen en tú casa en tú gobierno en tú ciudad y te retienen en el barco por un problema administrativo que non existe que é completamente inexistente porque unha medida judicial ningún juez ni siquiera en Italia nos han podido mantener máis de un mes y medio el barco cerrado en España llevamos tres meses con el barco bloqueado por unha absurda medida administrativa que non tiene ningún sentido e que si que merma económicamente moito pero non o suficiente como para acabarnos de destruir detrás de nos hai unha ciudadanía cada vez máis importante que se siente identificada con el porqué facemos las cosas e que nos sigue apoyando e grazas a isto podemos seguir todavía aguantando Setti Óscar l'ultima domanda che ti faccio io le persone più diciamo moderate non estremiste non ideologizzate però si fanno una domanda d'accordo è criminale lasciarli in Libia è immorale pagare le milizie libiche è immorale pagare Erdogan per tenersi i profughi d'accordo tutto ma come facciamo ad accoglierli tutti si domanda la maggioranza degli italiani e forse anche degli spagnoli ecco a questa domanda tu hai una risposta da dare possiamo accoglierli tutti come facciamo dove stanno i intelectuali d'este paese perché me lo preguntate a me è evidente che non potremmos accoglier a todo il mondo però non quere venire tutto il mondo è una parte molto piccina la che viene qui ma del 80% della migrazione d'Africa se queda en Africa o della zona solo sale un porcentaggio molto piccolo però è che Europa emvece che fare se abbiamo estes políticos tan mediocres che solo pensano su legislatura su 5 anni di governo non vogliono affrontare il problema economico real del che soffre il si ponen cortinas de humo e inventano fake news e nos facen creer que il problema è fora con i pobres che vengono io credo che ora in questa década todo il mondo o la extrema derecha ha il discurso o la pregunta che hai che facer per che non vengano che hai che facer per che non vengano però dentro de 15 anni non molti estremo come Merkel hace 5 e entón nos preguntaremos que podemos hacer para traerlos porque necesitamos migración però non non temos políticos que trabajen a medio a largo plazo que intenten buscar soluciones a medio a largo plazo que quitemos las manos de encima de África dejemos de expoliar África dejemos de manipular a gobiernos de África como estamos manipulando al gobierno de Libia como es posible que la diáspora mande más dinero a África que toda la ayuda humanitaria que desde Europa se envía a África como van a dejar de venir si cualquier familia de un país muy subdesarrollado que tiene a un miembro de su familia en Europa que puede mandar 100 o 200 euros cada mes y ese dinero permite a los niños de esa familia poder ser educados y tener una mejor calidad de vida esto genera una pequeña clase media todas las familias querrán enviar a alguien aquí para poder tener acceso a educación y a sanidad y a una leve clase media pero hay que empezar a empoderar a sus países y si cualquiera de estas personas que se gasta 7 o 8 mil dólares en llegar a Europa e invierte 4 años de su vida o 5 años de su vida si le puedes explicar que si estudia una carrera en su país le va a costar el mismo periodo de tiempo le va a costar mucho menos dinero y podrá llegar a Europa en una beca por qué no por qué no empezar a ir al origen y a explicar en los lugares más deprimidos que la quimera europea es falsa que cuando lleguen aquí van a ser deportados van a ser encerrados en un centro de detención van a malvivir en la calle no van a tener servicio si nos vamos a señalar como los culpables de todos nuestros problemas allora se siete d'accordo anche perché c'è una sala bella piena abbiamo veramente dieci minuti scarsi quindi se ci sono delle domande Oscar che dici le ascoltiamo dal pubblico 4 5 domande però vi prego fate i giornalisti fate le domande non fate i comizi però rapidi e così riusciamo a far parlare più persone possibile grazie salve mi chiamo Letizia sono la responsabile delle politiche di migrazione di volt italia noi con open arms abbiamo avuto un bellissimo rapporto quando abbiamo cominciato a scrivere il nostro programma condividiamo assolutamente tutto quello che dite e siamo con voi ma io preferirei che voi non foste in mare io preferirei che voi non dovesse uscire in mare per salvare delle persone io preferirei che la rotta mediterranea venisse chiusa e vorrei che l'immigrazione potesse essere una via legale potesse che questa gente potesse venire legalmente in Italia senza rischiare la vita con gli aeroporti aprendo gli aeroporti d'Europa lei pensa che sia una un'idea un po' un'utopia fare questa riforma in generale del sistema di accoglienza europeo e che si possa effettivamente dare un taglio all'immigrazione clandestina rendendola legale aprire un corridoi humanitari legale Oscar si Letizia sto completamente d'accordo con lo che dici in primo l'uomo ojalà ojalà non tivésimo che star nunca nel mar non queríamos creare un'organizzazione per permanecer di fatto non abbiamo estructura perché pensiamo che in qualche momento non farà che stiamo all'uomo perché avrà un'operazione civil o militar che garantirà la salute a queste persone è evidente che fa modificare la politica migratoria è chiaro che per chiedere asilo o per chiedere rifugio non sarebbe necessario posare i piedi a Europa sino facerlo desde l'origine e è certo che è evidente che non possono lavorare i irreguli non tenen permiso di lavoro e come non tenen permiso di lavoro non tenen residencia e a la inversa non consiguen facer nada che malvivir o caer en mafias che le facen delinquir e entran dentro del problema social e la derecha aprovecha este discurso así che contra antes legalizziamo questa situazione meglio io lo dicia antes mi generazione somos 7 millons quando desaparezcamos nosotros como vamos a ser sustituidos de que manera de onde va a salir unha mano de obra qualificada para sustituirnos a nosotros estamos envejecendo non tenemos o número de filhos que teníamos que tener para mantener esta piramide populacional así es que se non empezamos a pensar en que podemos hacer para atraer la migración que necesitamos e como podemos hacerlo de forma organizada però volvo a dicir lo mismo io sono un socorrerista mi mi trabajo è proteger la vita nel mar e faccio de meno a los intelectuali non se donde están e por que non hablan de todo esto io intento proteger tutto lo che posso non posso cambiare la politica migratoria della Unione europea c'è un altra domanda eccoci salve mi chiamo Alice la mia domanda è fra tutte le accuse che sono state mosse all'ONG diciamo in questa sala in questo contesto siamo tutte persone interessate quindi possiamo prendere diciamo anche questa domanda con la giusta prospettiva c'è qualche accusa che può essere minimamente fondata grazie no Alice sento ser tan tan escueto però però no se tuvieremo che traficare traficariamo con drogas o con armas che è molto più rentabile non con persone che in cima comano e hai che mantenere si cuidarla si curarla sono un gasto un'altra domanda allora io vorrei fare questa domanda lei ha letto in diretta il tweet di Salvini no? si e a proposito di ciò secondo lei perché un tweet è in grado di prevalere sui racconti sulla realtà dell'immigrazione e perché pochi replicano ai tweet con dati di fatto facilmente reperibili ma intanto perché Salvini spesso non non scrive quello che pensa o quello che davvero sa scrive quello che sa che i suoi elettori vogliono sentirsi dire e questo è il punto fondamentale oggi i politici parlano con la lingua dei loro elettori come se fossero degli zelig oggi hanno capito che i sondaggi è un circolo vizioso naturalmente è un circolo vizioso per cui si alimenta la paura poi si fa una legge per diciamo andare incontro a questa paura che si è costruita nel tempo attraverso spesso appunto il lancio di allarmi infondati quindi oggi Salvini sta in qualche maniera raschiando un po' il fondo del barile del suo bacino elettorale cioè sta cercando di alimentare di oggi l'immigrazione è come un gigantesco jackpot cioè quando tu dici qualcosa contro gli immigrati ti esce qualche monetina ti esce qualche monetina ti esce ancora qualche rivolo di consenso elettorale anche se credo che ormai Salvini abbia capito che è arrivato in fondo a questo giochino e che questo giochino tra poco non renderà più molto perché l'Italia è un paese in recessione è un paese dove cresce la disoccupazione cresce la recessione scende il pil scende la produzione industriale aumenta il debito pubblico e tutto questo non è colpa degli immigrati che prendono i canotti eh per quanto riguarda per quanto riguarda contrapporre delle verità oggettive a quello che viene scritto sommariamente con un tweet per alimentare la rabbia e la paura naturalmente eh la politica di opposizione ha pochi numeri per farlo perché ha poche carte in regola se oggi ci troviamo in una situazione come questa e con la quasi impossibilità di avere un'immigrazione regolare e dei flussi regolari è anche perché il governo che ha preceduto questo non ha avuto il coraggio in cinque anni di abolire la legge Bossifini tradendo una delle più importanti promesse che aveva fatto ai propri elettori non possiamo perdere era una promessa era una promessa su cui loro hanno preso i voti dicendo che la Bossifini era uno scandalo poi quando siamo arrivati al dunque di abolirla si è detto che però bisognava aspettare che la percezione del paese che se non si faceva un favore a Salvini ecco credo che questo sia uno dei tanti errori che ha fatto la sinistra che non ha mai avuto il coraggio di di dire come la di prendere una posizione chiaramente differente da quella della destra e quindi sai tra una destra che dice una cosa molto chiara e brutale e una sinistra che scimmiotta la destra preferisco l'originale se andiamo sul tema dell'immigrazione quindi l'opposizione non ha molte carte da giocare su questo l'informazione ha peccato di sommarità di conformismo e diciamo che anche l'informazione tendenzialmente ha il vizio di appiattirsi sul diciamo su quella che è la maggioranza o la percepita maggioranza del paese io credo che in realtà il problema sia che se tu racconti le storie delle persone al di là dei numeri se rimani con i piedi nella realtà e racconti le storie di persone come Giusefa piano piano riesci a convincere gli italiani di quali siano davvero i termini della questione insomma quindi non dobbiamo demordere insomma dare i numeri ma raccontare le vite delle persone e continuare a spiegare che le vite degli altri non sono diverse dalle nostre che i bimbi che vengono da quei posti hanno gli stessi nostri diritti hanno il diritto di muoversi il diritto di cercare diciamo la loro fortuna esattamente come noi insomma quindi in questo momento ci vuole il coraggio di continuare a battere su questo chiodo insomma più che si può insomma c'è qualche altra domanda ho avuto già il piacere di parlare con dei volontari della Sea Watch e una questione che mi ha lasciato molto impressionato sono le condizioni all'interno della nave per adesso per tutto il pubblico qui presente dirci quanti posti bagno avete a bordo quanti posti letto cucine o anche solo sale da pranzo perché penso che le persone qui non abbiano capito cosa significa stare a bordo 15 giorni 20 giorni 30 giorni su nave sta carica Oscar le condizioni non sono le 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 bastante migliori che in Libia però non sono le che abbiamo a che siamo acostumbrati la verità è che a veces abbiamo che tener a bordo moltissima più persone di che potremmo permettere tecnicamente però è il capitano del barco segun la lei segun il Derecho Maritimo è il che decide il numero di persone che possiamo embarcar senza ponere en peligro la vita del resto della tripulazione e la segurezza del proprio barco abbiamo arrivato a tener 570 persone a bordo con due lavabos iso significa che hai che facer cola antes di tener ganas e tenemos una cucina e hai che dar come a 570 persone e cando ha comito l'ultimo l'ultimo vuelve a tener hambre e tenemos dos médicos que jamás atienden a todos los que llevan a bordo porque tienen que priorizar en los casos más graves e vulnerables es una locura tener a 15 días a 200 a 100 o a 50 personas a bordo e tamén é unha locura que nosotros tengamos que hacer mil millas ou mil 400 millas con 300 personas a bordo en estas condiciones porque ningún porto desde aquí a España se nos ha permitido desembarcarlos pero estas son as reglas del juego e nosotros pensamos que están peor en el fondo del mar que a bordo de nuestro barco grazie Oscar Camps espero que queste regole del juego continui ancora a portarle avanti che questo gioco è un gioco fondamentale per tutti noi grazie davvero grazie grazie grazie